Il paziente oncologico è già di per sé un paziente assolutamente delicato, sia per la sua patologia di base che per il fatto che deve essere costretto ad una terapia che nella maggior parte dei casi si tratta quindi di una chemioterapia. Quindi è un paziente delicato dal punto di vista fisico, quindi della patologia, e anche dal punto di vista psicologico. Quindi le difficoltà che noi incontriamo nel trattare questi pazienti è multifattoriale. Il paziente con neoplasia è un paziente che ha una probabilità 4-6 volte maggiore rispetto alla popolazione generale di andare incontro ad un episodio di tromboembolismo venoso. Quindi le difficoltà sono legate al fatto che in questi pazienti noi dobbiamo trattarli con una terapia anticoagulante per eliminare il problema del tromboembolismo e per eliminare le recidive. Fino ad oggi l'unica terapia era quella con un'eparina non frazionata, quindi terapia endovenosa o perlomeno nelle fasi iniziali, e poi o anche da subito un'eparina a basso peso molecolare con la somministrazione sottocutanea. Terapia che va protratta per almeno 6 mesi. Le difficoltà quindi, il cuore del problema è che il paziente oncologico non sempre se la sente di essere sottoposto ad una terapia sottocutanea, quindi una doppia somministrazione giornaliera di eparina, quindi sottocute, e non di rado interrompe la terapia anche prima dei 6 mesi. Fino ad oggi le linee guida ci dicevano che l'unica terapia che poteva essere somministrata, l'unica terapia anticoagulante nel paziente con tromboembolismo venoso e neoplasia, era quindi l'eparina. Si poteva scere o la somministrazione con eparina endovena, quindi non frazionata, perlomeno anche solo nelle fasi iniziali e poi magari si passava alla sottocutanea, quindi quella a basso peso molecolare, oppure un'eparina a basso peso molecolare sin da subito. Terapia che però, ribadisco, va iniziata e va protratta per diversi mesi, quindi per almeno 6 mesi, anche per prevenire le eventuali recidive. Quindi fino ad oggi queste erano le uniche indicazioni. Ad oggi, dopo i risultati dello studio Q6-VTE, possiamo, invece che somministrare l'eparina, possiamo utilizzare l'edoxaban in monosomministrazione, quindi una compressa al giorno. Lo studio Q6-VTE cancer è una assoluta novità. Infatti è la prima volta che viene preso in considerazione, quindi uno studio clinico, vengono studiati pazienti neoplastici con tromboembolismo venoso. Lo studio ha preso in considerazione circa 4.000 pazienti e questi pazienti sono stati divisi in due bracci. Uno, in un braccio, i pazienti sono stati trattati con dalteparina, al dosaggio di 200 unità internazionali in monosomministrazione per i primi 30 giorni e poi 150 unità. L'altro braccio, invece, i pazienti sono stati trattati con un anticoagulante diretto, quindi con uno con l'edoxaban, al dosaggio di 60 mg in monosomministrazione e dosaggio che era ridotto a 30 solo nel caso in cui il paziente aveva una clearance tra 50 e 30 o un peso inferiore ai 60 kg. L'end point primario, cioè il motivo principale dello studio, era andare a vedere, era un end point composito, dove si vedeva se erano presenti sanguinamenti maggiori e recidive di tromboembolismo. Bene, questo studio, che ribadisco, assoluta novità, perché ha preso in considerazione l'utilizzo di un farmaco, di un anticoagulante diretto, quindi una compressa, ha dimostrato che l'edoxaban non è inferiore alla dalteparina nel paziente oncologico con tromboembolismo venoso.